Musica Flavio Maurizio è il presidente della cooperativa Macchiaverde che è l'anima, il motore di tutta questa bellissima manifestazione. Sagralia è un vero e proprio evento, presidente, con tanti prodotti tipici, specialità da gustare, il pigato che è un po' il sovrano attorno al quale ruota tutto. Sì, veramente il pigato è il sovrano come diceva lei, perché noi questa festa è impregnata veramente sul pigato, perché secondo noi è il vino principe della nostra Liguria, non teme i confronti con nessuno e noi anzi è già da anni che vogliamo che abbia il riconoscimento massimo della scala dei valori e delle dimensioni d'origine, vale a dire non solo la DOC ma la DOCG che sarebbe la dimensione d'origine controllata e garantita. Naturalmente questa è la festa non solo del pigato ma anche la festa degli altri vini Liguri come abbiamo detto tutte le cantine che abbiamo presenti, è la festa che abbiamo una grossa partecipazione, è la festa di una mostra a mercato sia commerciale che artigianale. Questo cerchiamo ogni anno di rinnovare, di puntare esclusivamente sulla qualità. C'è un libro che parla anche di 50 anni di Sagralea, è un compleanno importante, vuol dire tanto impegno ma vuol dire anche un'unione molto forte fra di voi, perché resistere 50 anni faticando, perché qui si lavora veramente in questi giorni, non è una cosa facile. Non è facile perché 50 anni è una vita e le dirò che i 50 anni di questa società ne ha avuto l'alto e il basso periodo e ha avuto anche dei momenti veramente tragici che si pensava anche di non poter più continuare. Ma io penso che la determinazione nostra sia data da tre punti cardine che io in tutte le mie interviste li cito, l'indipendenza, la volontarietà e soprattutto l'unità. Io penso che quest'ultimo punto sia stato determinante per superare tutte quelle ingiustizie che anche, possiamo dire, anche non so, rivalità, tante cose che non so perché ci abbiano intracciato in questo momento. Direi anche che negli anni 2000 noi si voleva realizzare un'importante fiera, vale a dire il sogno di un pollo fioristico in questa zona. Purtroppo per vari motivi, ite, burocratici, eccetera, non ci siamo riusciti. Però dico anche questo, non riuscendo in quello abbiamo detto cambiamo strategia e puntiamo sul sociale e su quello che è di dare ai più debili aiutare i meno debili. Questo è quello che abbiamo puntato. E il libro, mi parlava del libro, il libro io l'ho scritto giusto appunto con questo significato. L'ho scritto per narrare la storia del pigato, la storia della società, ma l'ho scritto anche per fare del bene a chi ha bisogno. E noi questo libro che sarà venduto, vediamo che sia tanti che lo comprano, una parte del ricavato andrà in beneficenza ad un paese molto distante da noi ma distrutto dal terremoto che è Gualdo in provincia di Macerata. Io ho parlato tempo fa col sindaco e domenica sera dovrebbe essere qui tra noi a ricevere il contributo che speriamo che sia compioso. E poi c'è anche un premio, il premio sale al vino 2017 che andrà quest'anno al presidente della Croce Bianca di Albenga e anche presidente della consulta del volontariato Bernardo Ardoino. Anche questo è un po' un segnale di vicinanza al territorio di Sagralia. Sì, noi il premio è stato istituito nel 1992, naturalmente che viene assegnato a tutte quelle persone o enti che si siano adoperate per la tutela del territorio e reclamizzare i vini liguri. Ma abbiamo anche pensato a quelli che ci sono distinti nel sociale, come in questo caso vediamo che Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca, presidente della consulta volontariato di Albenga, è giusto premiarlo con il premio sale al vino. Ennio Bertolotto, vicepresidente della cooperativa Macchia Verde, stavamo dicendo col presidente di quale grande squadra siete, avete superato, lui ci raccontava, alti e bassi, riuscendo però a rimanere in alto, a rimanere in alto soprattutto per il bene del territorio, perché questa è una manifestazione che porta qui tantissime persone, una cucina che sforna migliaia di piatti ogni sera e poi questo vino meraviglioso, splendido, con tanti produttori. Sì, sì, è vero. Io penso che il percorso degli alti e dei bassi, riuscire ad arrivare a 50 anni, che festeggiamo quest'oggi, è quasi impossibile rimanere sempre in alto. C'è qualche flessione, c'è stata, però come dicevi prima, siamo stati bravi, pensiamo a aver fatto il cambiamento di pelle nei momenti che bisognava farlo. Perciò siamo arrivati ad oggi, io penso che da ieri sera abbiamo avuto tanti plausi dalle persone, sia dagli espositori che anche dal pubblico, perché abbiamo rinnovato questa manifestazione veramente in una maniera eccelsa. Logicamente il principe della manifestazione è il pigato, il nostro fiore all'occhiello, ma non solo nostro, per tutta l'allegoria è diventato un grande vino, come logicamente dietro si porta il vermentino, tutti gli altri doc della riviera, della nostra riviera. E poi, cosa dire ancora, nella manifestazione per noi comunque il fiore all'occhiello è quello che porta tanta gente, è la grande tavola calda che abbiamo. Cento persone che lavorano. Nelle cucine spettacolari, meravigliose. È vero. Ma anche con tutta gente sorridente, tutta gente che ha un'armonia splendida, la trasmette al pubblico. Esatto, trasmettono al pubblico. Lì si mangia come a casa. Bene e anche dei bei piatti, perché abbiamo visto le relazioni mica da rida. Bravissimo. Oltretutto sono piatti che vengono fatti nella stessa maniera che vengono fatti a casa. A casa viene fatto per la famiglia, qua viene fatto per migliaia di persone. Ci sono decine e decine di pentole di qualsiasi cosa fatte a quantità industriale, veramente. Noi siamo vitti dell'esterno, senza notte che ci girano in tono. Noi siamo vitti dell'esterno, non ci fermeremo mai, per niente al mondo. Noi siamo vitti dell'esterno, senza stori, senza chai, per oggi un sogno. Noi siamo vitti dell'esterno, senza chai, per oggi un sogno. E' sagrale all'appuntamento col vino della Liguria, un'altra occasione per incontrare l'europarlamentare Alberto Cirio, che non fa mancare la presenza in questo lembo di Liguria. Siamo lo sbocco al mare del Piemonte, del resto è un rapporto quasi di parentela, potremmo dire. E' un rapporto di parentela e io credo che debba sempre anche diventare di più un rapporto di unire le forze. Unire le forze per vendere i nostri prodotti nel mondo, per farli affermare. Quando dico nostro intendo naturalmente i prodotti piemontesi, io sono uomo delle langhe, ma con grandi e forti legami anche in Liguria e credo molto al fatto che i vini liguri e i vini piemontesi possano andare insieme nel mondo a farsi conoscere. Perché ormai, come si dice, ormai normalmente non c'è più il vino buono e il vino cattivo. C'è il vino che si vende e il vino che non si vende. Questo per dire come il vino buono ormai c'è dappertutto, perché si sono fatti dei grandi passi avanti, ma al vino buono che noi facciamo dobbiamo unire una grande promozione. E una sagra come questa è una grande promozione. E significa promuovere anche il territorio, promuovere la riviera oltre ai suoi prodotti, cercare di dare un pacchetto completo che può essere per i turisti, ma può essere un po' per il resto del mondo, conoscerci attraverso i prodotti. Questo sicuramente perché ormai il turismo è cambiato, non è più il turismo di destinazione che c'era un tempo, è diventato un turismo di motivazione, un turismo si dice esperienziale. Cioè la gente vuole fare esperienza, e l'esperienza è quella di bere un pigato, un vermentino, magari nella propria abitazione, nella propria città, e poi durante l'estate voler venire a vedere quelle colline che le hanno prodotte, voler toccare le mani di quel produttore che il vino lo ha fatto, visitare la sua cantina. Questo è il turismo rurale, il turismo di cui ha bisogno anche la Liguria, che insieme al Piemonte può fare davvero tanto in questo senso. Evidentemente l'eccellenza del mare, del turismo valneare, rimarrà sempre il punto di forza, ma che non è incompatibile, ma che anzi è complementare con quello che può essere il turismo dell'eccellenza agroalimentare, su cui davvero la Liguria non ha niente da invidiare a nessuno. Consiglio regionale, Angelo Vaccarezza, un po' infortunato, ma comunque non abbastanza da rinunciare a Sagralea. No, beh, come dico ai miei amici sono il bello imbusto in questo periodo, quindi, vabbè, no, insomma è stato un esperimento, ma come tutte le cose, poi uno impara e non lo fa più. No, Sagralea non avrei rinunciato, devo dire non ho rinunciato a girare tutto il territorio durante quest'estate, ma questa manifestazione è una manifestazione che intelligentemente quest'anno è stata anticipata rispetto al solito, perché normalmente Sagralea era un po' più avanti, era a settembre, quest'anno è entrata nel cuore della stagione turistica perché oltre a promuovere questo prodotto tra di noi, lo promuoviamo anche con i nostri ospiti. Sagralea porta in scena i prodotti di eccellenza della nostra inogastronomia, in modo particolare intorno al vino, al pigato, ma al vermentino, ai tanti vini liguri che resistono, facendo magari poca produzione ma tanta qualità e il coraggio di coloro che hanno mantenuto alta la qualità è premiato da questa meravigliosa vetrina. Produttori eroici in un certo qual modo. Eh sì, perché per fare agricoltura e fare agricoltura di qualità ci vuole dell'eroismo, un po' di incoscienza e tanto amore per la propria terra, le proprie radici, la propria storia. E dato che noi non possiamo viaggiare con l'estensione di territori come quelli oltre le Alpi e oltre gli Appennini che hanno estensioni immense, da noi bisogna fare poca produzione e tanta qualità. La Piana d'Albenga in modo particolare rappresenta questa qualità, è il nostro polmone verde, è la nostra zona agricola d'eccellenza ed è l'unicità di questa provincia, la provincia di Savona che ha l'industria, che vive di turismo e che ha agricoltura di qualità. E' effettivamente una provincia unica. Io credo, nell'amore io credo, questa vita è un regalo che prezzo non ha. Io credo, nell'amore io credo, questa vita è un regalo che prezzo non ha. Credo, nell'amore io credo, questa vita è un regalo che prezzo non ha. Credo, nell'azzurro del mare, nel calore del sole che ci scaderà. Credo, nella gente che ride, che lavora e che spera, che se cade si rialza e cammina. Credo, in un vecchio che insegna, ad un bimbo la strada da percorrere senza sbagliare. Credo, se la storia si ripete, che domani avremo sete, se anche l'acqua finirà. Credo, nell'amore io credo, che si stringono e ti abbracciano, se l'amore non ha forma o confini. Io credo, nell'amore io credo, il mio bene profondo ti illuminerà. Credo, nel premonto sul mare, l'orizzonte che muore già notte sarà. A Salea c'è ovviamente il pigato, che è il principe, ma ci sono tante anche buone cose da mangiare, le prelibatezze. Allora, noi ci facciamo aiutare da Monica, perché... Facciamo un bel giro nella tavola calda. Ci fai da guida in questo posto meraviglioso, perché è una cucina mega galattica. Sì, è un'organizzazione, ci sono cento persone qua dentro. Cento persone. Che gravitano, eh, tra una cosa e l'altra, tra un piatto e l'altro. E a proposito di piatti, qui che cosa c'è di buono? Qui partiamo dai primi, questa è la polenta al tartufo, che è uno dei piatti, un fiore all'occhiello di Sagralia, perché la facciamo solo noi, nella zona, col tartufo nero. E vale la pena mangiarla anche ad agosto, perché non è vero che è un piatto invernale. Sì, non è vero, si dico che... ma serve, serve avere la polenta, perché la gente lo chiede, lo chiede, nonostante facciano tanto. Quando le cose sono buone, non hanno stagione. Non è vero apposta, ok, qui è il settore polenta. Il settore polenta, anche qui è un po' diverso. Il settore polenta, nel sugo, e poi la polenta ubriaca della ricetta di Max Mariola, che era venuta l'anno scorso a fare il cooking show. Alla festa del pigato vorrei vedere che non ci fosse una polenta ubriaca. Esatto, magari Graziella ci può dire qualcosa a lei di questa polenta ubriaca. È una polenta molto particolare, perché è fatta con i calamari, con il pomodoro, con il pigato, e poi mettiamo anche il pecorino romano e l'olio al basilico. Questa è una ricetta speciale di Max Mariola, appunto, dell'anno scorso, e che sembra incontri il gusto di molti nostri amici. Lo credo, è uno spettacolo se lo sentirne parlare, molto ricca. Molto ricca, molto diversa, forse anche un po' estiva, se vogliamo cambiare la polenta da un piatto tipicamente invernale a qualcosa di un pochino più estivo e più fresco, diciamo così. Bravissima, ed è proprio quello che stavamo dicendo. I piatti da gustare un po' in tutte le stagioni, non fossilizzarci su questa questione che la polenta deve essere solo invernale. A parte il fatto che credo che qui tutti l'abbiano capito, perché vedo che continuano ad andare e hanno appena cominciato. È solo l'inizio. È solo l'inizio, è solo l'inizio. Ma sono migliaia i piatti qua che girano. Sì, non so, ma ci sarà come minimo, ci sono delle pietanze che fanno più di mille porzioni a sera, andiamo a mille e cinque porzioni a sera. Quindi rendiamoci anche conto dei numeri e lo possono fare... ...i ravioli al sugo e abbiamo le trofie al pesto. Che sono subito dopo i ravioli, rendiamoci conto proprio dell'infilata di queste cucine. Guardate che spettacolo, Monica ci ha detto che sono un centinaio le persone, perché c'è anche una parte dietro dove ci sono i frighi, i magazzini, la preparazione. Quindi voglio dire... Ma poi stare comunque attaccati alle pentole, quando fa così caldo, per ore, 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 a far bollire. Vuole anche un po' di cambio. Un bollitore come lui che ci deve far andare avanti due bollitori contemporaneamente, ravioli e trofie, è già un impegno non da ridere, ecco. No, indubbiamente, indubbiamente, ma siete molto molto ben organizzati. Noi stiamo... Vediamo, ecco, qua ci sono dei maestri a saltare anche la pasta. Esatto, esatto. Ma guardate, guardate qua Stefano, guarda che polso, che mano. Qui è tutta esperienza. Certo, certo, sono anni e anni. Cosa c'è di buono in Caseruola? Galinella, calamari, trombette d'albenga, pomodori e cordibue e basta. Eh beh, ce ne troffie nere e c'è un profumo eccezionale. Troffie alla Giorgione queste. Alla Giorgione. La ricetta di Giorgione che ci ha dato due anni fa e quest'anno Giorgione ci sarà domenica di nuovo che ci viene a trovare. Sei innamorato di sale? Perché, ma non credo, ma è facile innamorarsi di sale. Perché man mano che arrivano gli ospiti, vi propongono ricette e voi acquisite, così il menù continua a variare. Poi però arriveremo a un punto che dovremmo fare delle sostituzioni, se no non ci stanno più questi piatti, non ci sta proprio più... Bisogna ampliare le cucine. Bisognerebbe poi... Fare le due piani. Sì, esatto, esatto. E qua, qui c'è un altro piatto forte, la buritta. Della nostra manifestazione, lo stoccafisso in umido. Magari Cristina qualcosa in più ci può dire, eh? Sì, Cristina muore dalla voglia di parlare perché vedo che proprio sprizza da tutti i porchi, a parte gli scherzi. C'è un profumo eccezionale ma quello non lo possiamo trasmettere. Però qualcosa possiamo raccontare? Eh beh, questo è un piatto della nostra tradizione ligure. Cioè, io la ricetta mi è stata tramandata dalla nonna e quindi non la dico, però... Qui è obbligatorio, siamo a sale. Assolutamente, sì. Complimenti, complimenti davvero. E vedo... Monica la lascia un istante e lei va a spostare pentola e tutto. Non può... Non può stare ferma perché qua è così. Qui sono tutti che aiutano. Qui abbiamo il coniglio alla Ligure, che è una ricetta delle mamme saleasche. Scoperchiamo, ce lo fate vedere. E la panna è una delle due signore che hanno iniziato questo coniglio da tanti anni, che è uno dei nostri piatti forti. Paola... E lo immagino, Paola, due parole ce le devi dire di questo coniglio. Ma certo, è un coniglio che dovrebbe esprimere il territorio nostro. Quindi aromi, profumi e pigato. E' bel pigato. Ma io sto guardando anche le porzioni, perché non sono porzioni che stanno facendo per la telecamera. Le stanno dando al pubblico. No, no, è vero, è vero. Tante volte diciamo, ma forse queste porzioni sono un po' troppo grosse. E noi stessi diciamo così. Però è giusto, sale conosciuta anche per questo. Ed è un altro dei motivi per apprezzare questa meravigliosa manifestazione. Io mi sto perdendo nelle pentole, siamo circondati. Abbiamo il panfrito col gorgonzolo. Panfrito col gorgonzolo. Sì, panfrito e gorgonzolo. Una variante al tema. Certo. Quindi fate di tutto per prenderci per la gola. Maggi, vieni, se ti fermi a mangiare te lo offriamo. Proseguiamo. Il palco nuovo di quest'anno, il polpo in guazzetto di Andy Luotto. Andy Luotto. È stato con noi ieri, con Beppe al fianco. Che puoi dire tu, Beppe. Cosa ti ha insegnato Andy Luotto? È una ricetta semplicissima. È una ricetta italiana e mediterranea. Il polpo cuoce nel pomodoro, è una salsa di pomodoro. Quindi cuoce, non è bollito, ma cuoce in umido nel pomodoro. E poi viene servito su un crostone di pane di triora con un guazzetto, vi faccio vedere. Infatti è un polpo in guazzetti. Ha la cottura nel primo guazzetto, viene servito con un secondo guazzetto, che è una... Ma sono due guazzetti. Uno in cottura e uno in servizio, con olive e pomodoro cuore di bue e niente. È un incrocio fra la bruschetta e la scarpetta che si fa nel piatto. Fagli vedere un piatto subito, guarda, facciamoli vedere un piatto assemblato perché è bellissimo, è anche da vedere, anche l'occhio fa la sua parte. Assolutamente, allora qui c'è il polpo che cuoce in questo primo guazzetto. E questo è il primo. La particolarità è che è in guazzetti. In guazzetti e non in guazzetti, sì perché sono due. Perché sono due, prima e dopo. Questo è il primo, eccolo qua. Questo è il polpo che viene adagiato sulle pane che viene prima. È già uno spettacolo, visto che il pane ha brustolito. Ha brustolito, fatto proprio come una bruschetta. E anche qui è una bella porzioncina. E poi andiamo... È finito col secondo guazzetto, che è una salsa di pomodoro in crudo, cioè quindi molto molto fresca con le olive taggiate. Tipo bruschetta questa salsa. Tipo bruschetta, sì sì, però cotta. È finito con una spolverata di prezzemolo tritato. Tutto lì, è un bel piatto. Un cavolavoro, un cavolavoro. Bravo anche Andy Luotto, che ha portato qui a Salea questa ricetta. E Beppe che subito l'ha catturato e l'hanno fatta loro. Sono fatto fritti e andiamo dalla panissa alle patatine fritte. E questi sono piatti che non possono mancare, anche se non sono così particolari come possono essere gli altri. Però anche la panissa proporla non è da tutti, alle feste, alle sagre. Ed è una bella cosa. Qui abbiamo invece la frittura di calamaro. Quest'anno molto particolare perché è una frittura orto e mare, l'abbiamo chiamato, no Claudio? Allora, un momento Claudio, spiegaci bene. Allora, calamaro piccolino, sbollentata di due minuti, tre minuti massimo, verdura due minuti. Quindi, friabile, croccante fuori, tenerò dentro. Quindi sono... Meraviglioso, ma ci ha fatto venire fame. Perché sono due le friggitrici, mi avvicino un attimo, vi faccio vedere. Allora, ecco, qui appunto è la parte relativa al calamaro e di qua quella delle verdure, giusto? Verdure, eccole qua. Pastellate. Quasi pronte. E quindi un mix. Pensa all'orafo di Albenga, che ha fatto il secondo premio della nostra lotteria. L'abbiamo messo alle friggitrici. Non abbiamo pietà di nessuno. Di nessuno. Sono gli anelli di Toto. Beh, lui se la cava con gli anelli, giustamente. Sempre nel settore. Ok, vi pagano le lati, le salamelle. Le carni, beh, le carni le vediamo perché vediamo le salamelle. E poi andiamo, qui c'è la carne, di là c'è il reparto toshico. Allora, lasciamo andare avanti Stefano, noi ci spostiamo dall'altra parte. Qui siamo nel retrovio, nel retro. E la parte anche più importante, che magari non si vede, ma che c'è il motore. Dietro le quinte delle cucine, pensate quanto sono grandi queste cucine. Questo è il retro della frittura mista, dove c'è una zona di scongelamento, poi viene buttato lì, viene fatto asciugare, viene infarinato e viene setacciato per poi metterlo nelle friggitrici. Quindi è una preparazione fatta al momento. Fatta al momento, tutto al momento. Guardate i quantitativi e certo si capisce che non è una passeggiata. Si capisce come mai siamo così in tanti. Eh certo. Però si capisce che siete anche molto molto bravi. Siamo anche sistemizzati. Oltre che simpatici, perché abbiamo trovato tanta armonia, tanta voglia di stare insieme. Ci sono delle difficoltà e potrebbe quasi essere spontaneo, ogni tanto anche qualche discussione. E invece qui nelle cucine vedo che c'è tanta amicizia, sorrisi, armonia. Sono anche tanta armonia, sì. È una bellissima cosa. Vi faccio vedere là il reparto della frittella di pane. Pan fritto? Pan fritto. Allora, avanziamo verso questi pentoloni d'olio bollente. Qui bisogna stare attenti perché qui bolle, veramente. Restiamo in sicurezza. Sì. Quindi qui abbiamo il reparto. Qui abbiamo addirittura una bambina piccola che ci taglia lei. Cioè ci mette a posto nelle cassettine. Bravissima. Qui sono gli allievi. Questa è la più piccola che ha dentro la tavola a casa. Gli allievi di sale, la sale del domani. Si chiama Anna. Anna, è vero? Brava Anna, complimenti. Ecco l'angolo delle donne di sale. L'angolo delle donne di sale, dove c'è il condiglione. Qui viene fatta la preparazione di tutte le verdure. È condito come a casa. Guardate che... Guarda di là. Guarda il condiglione. Tutte le verdure tagliuzzate a mano. Come è arricchita da quello che sono i sapori dell'orto. Peperoni. Tutto questo lavoro fatto minuziosamente viene fatto dalle donne che sono lì dietro. E che non le vedono, ma che ci sono. Ci sono e come? Finita la festa di sale e non mangiano condiglione per un mese perché non ne possono più. Ma non solo condiglione, no Bianca? Cosa preparate qua? Cosa fate di buono? Noi prepariamo le patate, le cipolle, l'aglio, i peperoni, il sedano, i limoni, tutto quello che c'è da... passa tutto dalle nostre mani. Tutto rigorosamente a mano. Siete meravigliose. Ci siamo noi. Si chiude? Si chiude, sì. Allora andate avanti, mi raccomando, per carità, anzi, buon lavoro, complimenti anche a tutte voi che siete qui all'opera. Qui guardate, puliscono le cipolle una a uno. Un lavoro di pazienza enorme, tra l'altro. È un segno di una grande passione. Davvero complimenti di cuore perché chi è dall'altra parte, chi è già a tavola e sta già mangiando, non ha idea del lavoro che c'è qui alle spalle, dietro le quinte dalle cucine di sale. Allora, qui la preparazione invece della salsiccia, le grigliate. Delle grigliate, tutto quello che è, queste donne vengono, mettono a posto, fanno i rotolini di salsiccia. Le cose eque perché qualcuno ne abbia di più e qualcuno di meno. Esatto, esatto. Poi di qui abbiamo invece la grigliata di pesce, dove abbiamo lo spada, i gamberoni. Anche il pesce alla griglia, che meraviglia, guardate che gamberoni. Sì, sì, veramente. Qui abbiamo uno delle grandi... Allora, ci hanno detto che sei una delle colonne di questa festa e non puoi scappare, anche se preferisci le cucine o le telecamere, qualcosa ce lo devi dire lo stesso. Ma cosa l'hai capito? Ma no, così. Bravo. Mi l'hai detto l'uccellino. Grigliata di pesce, di carne, ce n'è per tutti i gusti. Qua c'è veramente la fase di venire alla fame. Beh, certo. Cerchiamo di fare il meglio. Molte esigenze diverse dalla gente e noi cerchiamo di soddisfare tutti. C'è un profumo di gamberoni sulla griglia, ne avete fatto delle sfilze proprio, poi vicino c'è lo spada. Certo. Poi ho visto le salamelle, le salsiccere, spiedini. C'è un reparto pesce, un reparto carne, cioè logicamente. Ma siete attrezzatissimi, una bella squadra però vedo che... Sono cinquant'anni che facciamo questo, piano piano l'esperienza va avanti. E la state trasmettendo, abbiamo incrociato una bimba al lavoro già in cucina. Sì, certo. Ci troviamo dalle persone anziane. Qui passano con le casse, arrivano le patatine. È un via vai. E arriva di tutto. È una boggia qua dentro. Comunque avevo piacere che ci fosse Fausto perché lui è molto importante. Se non ci fosse lui... Non si potrebbe fare tutto questo, non si potrebbe. No, siete eccezionali perché comunque sia una struttura così. Adesso capisco l'amico, il collega Stefano Pezzini che diceva hanno una struttura stile nave da crociera. E ho capito perché delle cucine a questo livello, che fanno questi numeri, penso che il paragone sia solo con le navi da crociera. Quindi vi faccio veramente i complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie. Cosa fai? Scappi di nuovo? Dove vai adesso? Ma io vado alle mie postazioni. È un po' il re delle cucine. È un complimento un po' troppo. Principe, dai. Il re è il pigato, tu fai il principe. Grazie. Diciamo così. Grazie mille. Buon lavoro, grazie. Ti abbiamo torturato abbastanza per stasera, ma torneremo. Non ti illudere, torneremo. E a questo punto, Monica... A questo punto abbiamo finito la zona cucine. Ci sarebbe ancora da finire con l'associazione italiana Celiarchia. Ecco, io quello ti volevo chiedere, perché so che... Oggi non sono, diciamo, operativi. Saranno operativi da giovedì, venerdì, sabato e domenica. Però è bene ricordare, prima di chiudere questo spazio, delle cotture, che anche i celiaci qui a Saleh hanno un loro spazio, ma vero. Siamo passati nel reparto di dessert. Qui vediamo della frutta che viene tagliata fresca. Anche qua un lavoro enorme per affettare, in questo caso, delle pesche. E perché, Monica? Questo sono le pesche al pigato. Naturalmente non poteva... Ci mancherebbe. Quindi vengono condite, oltre con lo zucchero, anche col pigato. Quindi... E qui c'è tutto un lavoro di affettare. E qui ci sono sei, sette persone che nel pomeriggio si mettono qui e affettano. Perché guarda le dimensioni delle fette, sono sottilissime. Quindi devi mettere lì col coltello e poi... Queste vengono addirittura fatte a pezzettini piccolini da dare col gelato, queste. Pesche al pigato da dare col gelato. Con il gelato. Eccezionale. Roba da acquolina in bocca, ma non finisce qui perché se ci spostiamo ancora so che ci sono altri dolci. Così? Andiamo, andiamo. Cioè non solo le pesche. A Saleh hanno anche i baci al pigato. Guardate, poi naturalmente le pesche che vedevamo prima per il gelato. E qui c'è anche il gelato. E qui c'è la torta specialità, torta sagrale a questa. Torta sagrale a che viene fatta con una crema al pigato e con le pesche dentro. Quindi una torta paradiso, chiamiamola così. Ma siete spettacolari, il pigato lo mettete dall'antipasto al dolce. Sì, dappertutto. Guardate questo pezzo di torta, che adesso io l'ho rotto, perché non sono del settore qua. Ma non si mangia tutta intera, non ti preoccupare. Sì, comunque cerchiamo di comportare. L'importante è la consistenza, è la bontà. E questa è la famosa che... E lì ce ne è una al cioccolato anche però. E poi quest'anno abbiamo aggiunto, fatto la variazione, abbiamo messo anche la torta al cioccolato in due modi. Con farcitura di cioccolato e farcitura di marmellata di albicocco. Tipo una sucker. Una specie di sucker nostrana, di sale. Di sale, esatto. E poi vedo delle crostate laggiù. Poi ne parto crostate. La torta di mele, mi sembra. No, di pesche. Di pesche. La passione per le pesche. La passione per le pesche, la mettiamo dappertutto. Dopo il successo delle pesche alpigate, abbiamo detto, ma sì. Poi abbiamo la panna cotta. La panna cotta che invece è qui all'interno dei frighi, giustamente. Con i frutti di bosco. Ma ce n'è davvero per tutti i gusti. Dall'antipasto al dolce. Volevo far vedere il sacchettino dei baci alpigato. Sì, che l'abbiamo inquadrati, visti prima, ma sono anche qua, chiaramente. Eccoli, i famosi baci alpigato. Eccoli qua. E questi o venite a Salia o non li mangiate, giusto? No, dovete venire a Salia. Questa ricetta è solo questi sei giorni. Secretissima, è solo per questi giorni. C'è un pasticcere che ce la fa solo per noi in questi sei giorni. E basta. Non la si possa avere in altri momenti. Qui si deve dire, parto pigato. Pesca il pigato, bacia il pigato. È tutto pigato by Salia. E poi avevamo detto prima anche la cucina senza glutine, perché c'è uno spazio riservato, dedicato, un angolo a parte, che non viene contaminato. E questa è un'altra particolarità di Salia, molto importante, perché non è da dare per scontato. Avete voluto pensare anche a persone che rischiano di non potersi divertire, proprio perché hanno questi problemi. Esatto. Qui possono divertirsi anche loro. Anche loro. Perché tanti anni ci chiedevano, ma cosa c'è qua dentro? Perché io sono celiaca o cose da dire. Allora abbiamo detto, ma perché non fare, anche noi, una cucina dedicata alla celiachia, a chi ha questi problemi? All'altro con l'Associazione per la celiachia. L'Associazione per la celiachia, l'Associazione Italiana Celiachia. E ci sono proprio gli addetti che solo loro cucinano. Cioè non ci andiamo noi in quelle cucine lì, perché ci sono proprio gli addetti che fanno queste cose qua. Molto, molto bella questa iniziativa da parte vostra, il fatto di aver pensato anche a questo aspetto. A qualcuno che sta magari peggio di noi, che non può venirsi a gustare magari una sagra per motivi di salute. Ecco. E quindi ce la facciamo gustare lo stesso. Perché a Salia si può. Perché a Salia si può. Fra gli espositori di Salia non poteva mancare l'azienda agricola Cascin, anche voi a questo premio dedicato al vermentino, al pigato, anzi prima di tutto, comunque alla rassegna dei vini del territorio. Voi li avete portati un po' tutti. Certamente abbiamo portato non solo il pigato al vermentino, anche i rossi, anche se la sagra è specialmente del pigato. Però dobbiamo dire che siamo presenti anche quest'anno con i nostri prodotti, che sono anche i prodotti dell'olio. Abbiamo portato anche l'olio del Cascin, che è ottimo, come al solito olive e tutto. Sul vino, cosa possiamo dire? Abbiamo avuto, senza montarci la testa, dei buoni complimenti, soprattutto per il pigato e anche il vermentino. Quindi ci manteremo questi sei giorni, invitiamo la gente a venire a trovarci, perché il prodotto dell'azienda agricola, il Cascin, è sempre un ottimo prodotto. Infatti possiamo vedere questa bellissima azienda, che si trova a 8-10 km sopra Imperia, quasi 80 passa ettari, tutto vino d'occhi, quindi invitiamo a venire l'assaggiare. Tra l'altro anche col premio Dui Ador, proprio per il pigato e il vermentino. E' il terzo anno, mi sembra, che l'azienda agricola Il Cascin vince questo premio, quindi dimostra la qualità e la bontà di questo prodotto. Speriamo che quest'anno anche la vendemmia sia quella dello stesso anno, nonostante qualche grandinata. Quindi passo qua anche il dottor Zunino. Il nostro editore Francesco Zunino, che è sempre vicino all'amico Gianni Massa. Sì, con Gianni Massa c'è un'amicizia da sempre. Comunque mi devo farti i complimenti, perché sei già riuscito a introdurti bene, a presentare i prodotti di Gianni, e quindi ti dico bravo. Mentre facciamo anche un bel cin cin col pigato di Gianni Massa, vi vogliamo dire che noi, col cin cin che facciamo con Gino, ci divertiamo così. Dillo anche tu così. Allora, ci divertiamo così. Così. Balla, balla, la giurca. Ma che vino si beve qua? Eh. La giurca è il pigato. Ce l'abbiamo una rima? Prego. E sarai più fortunato. Ah, bene. Questa sera rima facile. Facilissimo. Dai. Balla, balla, la mazzurca. Ah, sì. La mazzurca del pigato. Vai. Mi ha cambiato, mi ha cambiato a portare, eh. Io non c'ero ancora stato. Chiede la zia che ti ci porta. Grazie, grazie mille. Daniele, se vieni a suonare. Io sono amante della ruota. No, ma la che bella. Daniele, vieni, va, ci sono due tastiere. Ma io dico, io... Va, ti lascio questa. No, ma lui è bello già così, può dire così. Ah, no. Io vado anche brutto. Signor Sindaco, non una sagra, ma un vero e proprio evento. Una manifestazione di grande importanza, sagrale. Sicuramente sì. È vero quello che dice lei. È un evento. Pensare che sono 50 anni che viene svolto fa capire la forza di questo gruppo. Un gruppo di persone che hanno avuto un'intuizione straordinaria, quella di puntare su un nostro prodotto, che è il pigato, che 50 anni fa non era così conosciuto, non aveva questa risonanza. Invece loro ci hanno creduto e anno per anno, questo è diventato veramente ormai un riferimento per quanto riguarda sia il turismo, perché molta gente viene in questa sagra, proprio per mangiare, perché si mangia molto bene, ma anche perché poi si possono visitare gli stand, i prodotti che ci sono, e quindi non solo il pigato, ma tantissimi prodotti della nostra terra, perché la nostra terra è una terra dove c'è molta qualità e quindi noi su quello dobbiamo puntare. Assessore Mai, anche lei rappresentare la regione qui a questa sagrale, a questa festa in onore del pigato, ma non solo. Qui è una festa un po' a 360 gradi sulle produzioni locali. Sì, è una festa che abbiamo dentro, insomma, è nata come Sagra di Salia, era un posto per incontrarci, poi è diventata un qualcosa di più, è diventata una bellissima vetrina, non solamente per il pigato, che è eccellenza straordinaria di questa realtà, di questo territorio, ma di tutti i vini liguri, specie per quelli che hanno un riconoscimento doc, ad esempio. Io credo che feste come questa qua, importantissime per il territorio, debbano continuare a essere sostenute, perché, a parte che sappiamo che ormai l'inno gastronomia è uguale al turismo, quindi più promuoviamo i nostri prodotti, più li facciamo conoscere e facciamo soprattutto conoscere che cosa c'è all'interno, come vengono prodotti, più facciamo turismo, più portiamo persone sui nostri territori. Quindi non deve essere vista solamente come un momento di festa, un momento per celebrare i 50 anni, come in questo caso, di una realtà, ma deve essere vista come una festa, come un modo per promuovere la nostra Liguria, il nostro territorio, in modo ancora più forte e sentito. Onorevole Vazio, beh, lei naturalmente non poteva mancare a Sagrale, perché questa è una festa dei prodotti, del pigato in modo particolare, qualcosa di più di una Sagra, si diceva oggi? Beh, tanto è una rassegna regionale che ha 50 anni, che nasce nel 1968, da un'intuizione di un gruppo di persone, tra i quali Flavio Maurizio, di persone che purtroppo non sono più con noi, come Vincenzo Calleri, e un reverendo, un sacerdote, Don Borzacchiello, che ebbe l'intuizione insieme a queste persone di costruire una promozione di un vino che all'epoca non era il vino che è oggi. E tra l'altro questa rassegna alla peculiarità di portare avanti un messaggio che oggi è scontato nel nostro paese, ma ieri non lo era, cioè la qualità e la promozione del territorio, che è una cosa straordinaria. Dicevo quando abbiamo premiato prima che le idee camminano con le gambe degli uomini e qua hanno avuto la fortuna di avere degli uomini speciali. Bernardo Donino, che è il presidente della Croce Bianca, ma anche della Consulazione del Volontariato, che cosa significa per lei il premio di Sa? Vede, come ho detto prima, il premio a me vuol dire alla mia associazione, ai centinaia di ragazzi che con me hanno lottato e continuano a lottare, a quei sei ragazzi che con me siamo venuti in quelle fasce, tre fasce vicine alla chiesa e è partita a Sagra de Salia. Don Borsocchiello, Aldo Caleri, che è stata una persona magnifica, una persona di cuore. Poi loro sono volontari come noi. Il nostro è più difficile, perché 24 ore su 24 e siamo sempre pronti e siamo orgogliosi che in 105 anni nessuno è mai venito a soccorrere qualcuno dei nostri prima di noi. Questa è la grande soddisfazione. Grazie. Agli amici di Re Francore, provincia di Asti, Asti, Asti. Aniele, nessuno si è mai inginocato davanti a te, e ti è inginocchiato davanti a te, Aniele. Tu ti è inginocchiato, è presente. Aniele, nessuno si è inginocchiato davanti a te, Aniele, nessuno si è inginocchiato davanti a te, Aniele. Aniele, nessuno si è inginocchiato davanti a te, Aniele, nessuno si è inginocchiato davanti a te. Aniele, nessuno si è inginocchiato davanti a te, Aniele. Aniele, nessuno si è inginocchiato davanti a te. E adesso come per magia, i carinetti si moltiplicano. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti